Non aveva mai perso fin qui Modena, aveva lasciato per strada un solo set fin qui Modena. Era la capolista indiscussa, tutto questo però fino a quando non ha carcato il parquet del Palatrento e si è scontrata con l'Energy T. Risultato? Soprattutto le migliori aspettative della vigilia. 3-0 secco, senza repliche, con parziali 18-19-27. Una prestazione sontuosa, 5 stelle super lusso, quella di Trento, quasi perfetta in tutti i fondamentali. Modena prova a reagire solo nel finale di secondo e terzo set, ma la precisione di Trento, ancora una volta a muro e al servizio, non lascia scampo nemmeno alla signora Modena. Si torna in campo il 26 dicembre a Monza per la sfida contro Vero Volley, poi domenica 28 ancora in casa, ancora contro un'altra signora di lusso, Copra Piacenza. Un risultato che non se lo aspettevamo, 3-0 contro la Modena, veramente ottimo, ottimo. Io sono contentissimo, tutti siamo felicissimi e siamo molto contenti non solo del risultato ma del modo in quale abbiamo giocato. Funzionato tutto in tutti i fondamentali? Sì, diciamo che loro hanno cercato di metterci in difficoltà soprattutto all'inizio set, però noi non ci siamo rilassati da questo punto. Anche trovandosi un po' indietro siamo sempre riusciti a stare nel gioco. Grazie. Grazie.